Buongiorno a tutti. All'ultimo posto in classifica. La settimana scorsa è arrivata la sconfitta per 3-1 contro la fortitudine Mozzecane che lascia Arezzo all'ultimo posto con 0 punti. Due soli gol fatti mentre sono 12 quelli subiti. L'Inter arriva qua ad Arezzo invece con 15 punti e il primato in classifica. Ne fanno il miglior attacco e la miglior difesa del campionato di Serie B a ginore unico. Baresi ha preso la sinistra. Inizione c'è Mencucci, la prova fa la guardia, il cross è al centro, la palla arriva. E la parata di Antonelli sulla conclusione di Brustià. Grandissima parata di Antonelli sulla conclusione ravvicinata del numero 8 dell'Inter. Mencucci intercetta il pallone di Pellens. Ancora Mencucci a regolare, attenzione a Mencucci. Avanza adesso il contropiede di Arezzo. Mencucci prova la conclusione da fuori Mencucci. La palla riesce a intervenire Schoffinger, il portiere dell'Inter. Arriva in questo caso la prima occasione di Arezzo al dodicesimo. Quindi Arezzo fatica soprattutto nel chiudere questi triangoli veloci. Mettere attenzione a Baresi, attruma palla a Teci. Baresi, Baresi, sottoporta Baresi. Antonelli, grandissima parata di Antonelli. Simanelli con Marinelli, il cross poi ha scivolato da parte di Ferrazza. E qui Antonelli nuovamente protagonista con la grandissima parata su Baresi. Brustià. Attenzione al cross di Brustià che arriva in questo momento per Baresi. Non ci arriva poi il copo di testa e il gol. Arriva il vantaggio dell'Inter al ventiquattesimo minuto del primo tempo. È stato fatale far andare al cross Brustià. E dall'altra parte ha messo con un copo di testa la palla in porta. La giocatrice nera azzura sembra essere numero 7 Marinelli che porta dunque in vantaggio l'Inter. Si sblocca il giudato al ventiquattesimo minuto del primo tempo con la squadra nera azzura che si porta in vantaggio per 1-0. Di Fiore in mezzo a tre non riesce ad andarsene. Ancora Brustià. Il tocco centrale poi lo scarico per Baresi. E questa volta c'è stata tenuta da parte di Ferrazza sul capitano dell'Inter. C'è il calcio di rigore concesso dal direttore di gara. T'ha tenuta vistosa. T'ha tenuta vistosa e l'abito non ha potuto far meno che concedere questo calcio di rigore. Abbiamo Baresi, figlia di Giuseppe Baresi, ex capitano dell'Inter, nipote di Franco Baresi, ex bandiera del Milan. Fisca l'abito. Parte Baresi con il destro e il gol. Arriva il 2-0 dell'Inter con Regina Baresi che trova così il suo quarto gol stagionale. E il 2-0 in questa partita. C'è stata la grave ingenuità in quel caso poco fa di Ferrazia che aveva messo fallo su Baresi che stava andando verso l'esterno. E lei non ha sbagliato dal dischetto portando sul 2-0 il risultato a favore dell'Inter. Occhio a Brustia. Il cross al centro. Teci non riesce ad intervenire. C'è il 3-0. Il 3-0 da parte di Marinelli. Doppietta per lei. Nuovamente buono il cross al centro per Marinelli che porta sul 3-0. Il risultato in questo primo tempo. Intanto attenzione all'Inter. Ancora in avanti. Prova la conclusione da fuori. A numero 10. Nero-Azzurra. Si distende Antonelli a sua destra. Mette la palla in corner. Il lancio poi sulla destra per Santi. Ancora Santi. Può andare in porta. Antonelli. Grande parata. Ancora una volta allo scadere. Arriva adesso il triplice fischio. Finisce la partita con la vittoria dell'Inter. Qua la comunale città di Arezzo per 3-0. Siamo qui nel dopogara di Arezzo-Inter con Agnese Zeghini. Agnese, quest'oggi è stata sconfitta per 3-0 contro l'Inter, contro una squadra probabilmente di un'altra categoria. Sì, loro erano molto più forti, diciamo. Però noi comunque abbiamo lottato fino all'ultimo. Ci siamo impegnate. Purtroppo è arrivata questa sconfitta. Però penso che non abbiamo da recriminare niente. Cosa serve a questo Arezzo per dare la svolta alla stagione? Comunque abbiamo visto oggi un gran secondo tempo. Per dare la svolta serve veramente poco. Forse ci manca quel pizzico di fortuna che fa entrare il pallone in porta quando serve per anche noi sbloccarsi e finalmente vincere. E adesso settimana prossima è un'altra trasferta difficile contro l'Empoli. Sì, domenica prossima è un'altra trasferta difficile. Però penso che se continuiamo così possiamo fare bene. Siamo qui con Regina Baresi nel dopogara di Arezzo Inter. Per voi è stata la vittoria a 3-0. Per te il gol del 2-0. Che partita è stata? Per noi ogni partita è importante e fondamentale. La giochiamo tutta al 100%. Quindi era importante far bene. Abbiamo dimostrato di riuscire a portare a casa il risultato giocando la nostra partita. L'obiettivo rimarrà quello di arrivare in Serie A senza passare dai play-off. L'obiettivo è vincere tutte le partite una dopo l'altra. Poi quello che arriverà alla fine si vedrà. L'importante è non perdere mai la concentrazione e portare a casa più punti possibili perché anche un punto solo può essere fondamentale. Come ci sente di aver passato il passaggio estivo dall'Inter direttantistico all'Inter professionistico passato poi dalla società nero-azzurra maschile? Per noi è sicuramente un onore ma è anche una responsabilità in più perché sappiamo che abbiamo molte più persone che ci guardano. Molte più responsabilità da dover sostenere. Noi facciamo il massimo come abbiamo sempre fatto però sicuramente per noi è un orgoglio poter indossare la maglia ufficiale. E portarla in Serie A. Ci proviamo.